Ragazzoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video su Elden Ring. Quest'oggi vi mostro dove ottenere la spada cifrata, una spada unica con danno sacro che scala unicamente in fede. Inizialmente va a scalare B in questa statistica, ma con i giusti potenziamenti, arrivando al più 6, riesce a raggiungere anche uno scaling in A. Per ottenere questa spada bisogna arrivare alla capitale Leindel. Partendo ora da questa fonte, torniamo nella stradona principale. Dovete adesso proseguire verso la zona che si trova oltre questa scalinata. Se avete già sbloccato la porta all'inalto avete già il percorso libero. Se invece avete quel portone ancora chiuso dovete tornare indietro e ripassare dalla fonte. Vi faccio vedere il percorso. Scendiamo questa scalinata. Passiamo sulla destra, attenzione a questa zona ragazzi perché è veramente ricca di questi cavalieri che in questa parte del gioco veramente rompono, non sapete quanto le scatole. Saliamo sull'ala di questo drago pietrificato, proseguiamo sulla zampa e ci lanciamo qui sotto, su questi massi. Saliamo adesso su questa scaletta di legno. Da qui è abbastanza semplice. Dobbiamo entrare in questo edificio, quella è la porta principale, però noi dobbiamo accedere alla zona sulla sinistra dove sta praticamente quell'oggettino in lontananza. Il nostro obiettivo è scendere pian pianino verso questa parte bassa. Possiamo farlo in diversi modi utilizzando anche il cotone volendo. Provo a scendere da questo lato, non dovrei morire dalla caduta, mi raccomando fate attenzione ai nemici. Non prendete l'entrata principale ma rimanete sulla sinistra. Praticamente dovreste trovare questo ramo dell'albero madre che entra nel terreno e questi piccoli cani. E vi ritroverete praticamente in una copia della tavola rotonda. Non ho ancora capito se questa è la reale tavola rotonda prima della disgregazione o qualcos'altro. A livello di lore devo ancora indagare per bene. L'oggettino che a noi interessa si trova nella stanza dove di base troviamo le due dita. Apriamo l'enorme porta di legno chiusa e su questo trono ci sarà l'arma che stavamo cercando, la spada cifrata. Ovviamente poi il consiglio che vi do è esplorate questa nuova tavola rotonda e raccogliete tutti i loot perché ce ne stanno un pochino sparsi qui in giro. Per quanto riguarda quest'arma la sto provando sul mio personaggio che sto portando in questo periodo in live su Twitch. Tra l'altro mi piacerebbe assolutamente vedervi anche su quella piattaforma e trovate i link in descrizione. Ragazzi vi ricordo che sono in live ogni sera alle 20 e 30 perché comunque sia la spada cifrata ragazzi va a scalare unicamente in fede. A livello di moveset si comporta come una semplice spada dritta. Il design è veramente molto molto bello. Ricorda anche il pada cifrato che trovate nella vera e propria tavola rotonda. E a livello di danni si comporta bene. Ovviamente fa soltanto danno sacro, non è uno split damage e potete ovviamente volendo giocare anche con l'amuleto scorpione sacro che aumenta ancora di più i danni di questo attributo. La sua abilità speciale che la rende effettivamente unica si chiama lama ineluttabile. La nostra spada verrà infusa con questa luce dorata. Il nostro personaggio fenderà l'aria, come vedete aumenta anche la gittata dell'arma stessa e sarà in grado anche di bypassare gli scudi dei nemici avversari. Ha un ottimo range e il semicerchio in cui colpisce devo dire che non è male. Sicuramente non sarà l'arma che fa più danno in assoluto ma vi ricordo comunque che è una spada dritta, si ottiene effettivamente molto facilmente. È parecchio leggera a livello di peso e si adatta di più a build veloci nell'attaccare utilizzando magari anche il dual wielding, quindi con una doppia spada dritta. A livello di utilizzo nel pvp il fatto che magari qualcuno non conosca l'abilità unica di quest'arma e utilizzi magari una strategia più difensiva rimanendo spesso dietro lo scudo, vi permetterà facilmente di metterlo in difficoltà. Ragazzuoli miei questo era il video sulla spada cifrata e su come ottenerla. È un'arma molto particolare ed unica e secondo me ad alcuni di voi, soprattutto quelli più improntati sulla build fede, potrebbe interessare. Come al solito ragazzuoli miei io spero di esservi stato d'aiuto, in tal caso magari lasciate un like e iscrivetevi a questo canale per altri contenuti di questo tipo. Vi invito anche a passare sui vari social Telegram, Discord, tutti linkati in descrizione, tutti spoiler free nel caso abbiate bisogno di un consiglio o di una mano sempre riguardo Elden Ring. Io era Nevermind e vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!